Questa mattina nella sede AMT si è tenuto il primo tavolo tecnico sulla filovia. Il presidente Francesco Barini, insieme al responsabile unico del procedimento e alla direzione lavori, hanno illustrato ai media le fasi di cantiere in atto. Il cantiere di Verona è molto esteso, stiamo parlando di 24 km di linee filoviari, dove bisogna rifare tutte le sedi stradali, bisogna realizzare 110 banchine di fermata nuove, ci sono 12 sottostazioni elettriche più due opere fondamentali, che sono il deposito alla Genovesa e il sottopasso della cittadinina. 8 km di nuove corsie riservate per un transito più speditori tutti i mezzi pubblici, realizzate con cantieri aperti gradualmente nelle vie interessate dai lavori, per un disagio ridotto ai cittadini. Le lavorazioni e le squadre sono itineranti, quindi a volte si spostano, dopodiché c'è un discorso di conseguenzialità delle lavorazioni, in cui bisogna che prima una squadra finisca, ad esempio quella che rimuove le asfaltature, prima che intervenga la squadra successiva per apposare ad esempio dei cavidotti. Sono 250 in tutto poi gli alberi che verranno rimossi, pini marittimi con radici a livello della superficie che danneggiano il manto stradale e creano disagi ai cittadini. Noi abbiamo calcolato e stimato che ci sono 250 alberi che sono invasivi lungo il tracciato, quindi non ce ne sono di più e su questo tengo a esserci ben preciso. Noi ne abbatteremo circa 250 e ne ripianteremo 250 o più essenze. Dal 18 luglio via i cantieri in via Paganella a San Michele. Il 22 luglio, con le indagini georadar lungo via Cittadinim e viale Ludovico dal Cero, si aprirà il cantiere che porterà entro due anni all'unione dei due sottopassi, spostando sottoterra il traffico privato. Il cantiere in via Cittadinimes pensiamo possa partire questo autunno. Dobbiamo cercare di farlo partire il prima possibile perché è il cantiere più importante di tutta l'opera Filovia. Ricordiamo, ricordo sempre, Filovia non sono solamente i 39 mezzi, ma sono anche quelle opere che Verona sta aspettando da tanto troppo tempo, come questo di via Cittadinimes che sappiamo che doveva essere fatto ancora per Italia 90 e quindi noi cerchiamo di portarlo a termine il prima possibile.